Salve, vi invito a seguire la storia che racconteremo delle primarie del Partito Democratico 2017 sul sito yesdaunanda.com, nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. Avrete modo di capire, di sapere quali sono le nostre proposte, chi sono i nostri candidati, vedrete che sono impegnate nelle nostre comunità e poi di seguire la discussione politica che sarà molto interessante per capire esattamente cosa proponiamo e cosa propone Matteo Renzi, che è il candidato che noi sosteniamo con la mozione Matteo Renzi e con i nostri candidati all'Assemblea Nazionale. Seguiteci su yesdaunanda.com, che è il sito del cambiamento per il cambiamento con Matteo Renzi, l'Italia nel mondo con Matteo Renzi. Seguiteci e impegnatevi a partecipare indipendentemente da chi sosterrete, ma noi vi chiediamo di sostenere Matteo Renzi. Il 30 aprile votate e sostenete Matteo Renzi e i nostri candidati all'Assemblea Nazionale e naturalmente sul nostro sito troverete tutte le informazioni e i seggi di questo importante appuntamento di democrazia partecipativa del Partito Democratico. A risentirci.